ciao raga oggi proviamo a montare questa tenda qui la lanciano uno che ho acquistato tempo fa su amazon e che non ho mai diciamo montato all'aperto vediamo com'è allora è una tenda che diciamo non ha paleria e si utilizza solamente una una bacchetta del solamente un bastoncino da trekking allora il bastoncino deve essere posizionato tra i 120 e i 130 proviamo 125 una via di mezzo a dire la verità ieri sera avevo guardato un tutorial su youtube di the walking robin dove spiega come fare a montare la lanciano one però insomma tra tra lui e me c'è una una bella differenza poi vedrete e però insomma in linea di massimo ho capito come come funziona era giusto per avere un'idea dato che l'avevo acquistata con con amazon quando c'era il back friday e erano già passati diversi mesi e volevo capire come come montarda e se insomma se i pezzi erano tutti presenti però ecco molto è una tenda molto minimal però secondo me ne vale la pena ecco e Grazie a tutti. Vabbè, un tentativo molto approssimativo, però insomma si monta piuttosto bene alla fine. Vi faccio vedere il dentro, c'è la zanzariera. Insomma alla fine è anche abbastanza spaziosa, è anche solida.